Salve a tutti i affezionati al canale EarthLive2.0 Nel video di oggi parliamo di demoni e alieni o meglio sarebbe il caso di farci una domanda Gli alieni sono i demoni Molte volte nei commenti trovo scritto il fatto di associare gli alieni ai demoni o meglio ancora che gli alieni sono veri e propri demoni Vediamo di capirne di più e naturalmente se parliamo di demoni non possiamo che associare questo tema alla religione Che cosa pensereste se qualcuno vi dicesse che Giovanni XXIII aveva familiarità con gli alieni? Che era visitato da essi e che comunicava con essi E che di questo fatto esistono le prove In particolare la testimonianza di un personaggio decisamente al di sopra di qualunque sospetto Monsignor Loris Francesco Capovilla Morto nel 2016 il suo segretario particolare Fatto poi cardinale da vergoglio nel 2014 Alla bell'età di 98 anni Due anni prima della sua morte Probabilmente pensereste che è uno scherzo Per giunta di dubbio gusto Uno scherzo talmente grossolano Da screditarsi da se stesso Al punto che nessuno lo potrebbe prendere minimamente sul serio E invece non è affatto uno scherzo Monsignor Capovilla ne ha fatto parola Sia pure a molta distanza dal fatto Avvenuta nell'estate del 1961 Probabilmente perché lo stesso Giovanni XXIII Gli aveva chiesto di non fare parola E lui da bravo segretario Aveva rispettato la consegna del silenzio Almeno finché a distanza di anni dalla morte del pontefice Qualcosa era trapelato fino alla stampa E lui si era sentito sciolto da quella promessa Potete anche non credere a questa storia Però vi invito a digitare su Google La parola chiave Giovanni XXIII Monsignor Capovilla Alieni E resterete sbalorditi dalla scoperta Che in rete esistono decine di articoli Tratti dalle normali agenzie di informazione Dalla stampa italiana e internazionale Che riportano l'evento In forma debolmente dubitativa In pratica dandone per assodata la veridicità Per uno che non crede all'esistenza di vite straterrestre Tutto questo è strano Molto strano Invece per i credenti tutto ciò è molto logico Ma facciamo una premessa Esiste una scuola di pensiero Comprendente uno stimato sacerdote Nonché celeberrime esorcista Don Gabriele Amort Secondo quale i cosiddetti straterrestri Sono in realtà sia loro che i loro veivoli Nient'altro che personificazioni del demonio E degli spiriti maligni Aventi come sempre lo scopo di impadronirsi Mentalmente, fisicamente O comunque di suggestionare spiritualmente In senso tutt'altro che positivo Gli esseri umani Fatta questa premessa Molto probabilmente Molti di voi conoscono la storia di Papa Roncalli E l'incontro con gli alieni Brevemente la storia è questa Durante una passeggiata Nei giardini della residenza di Castel Gandolfo Nel luglio del 1961 Papa Roncalli e Monsignor Capovilla Ebbero un incontro ravvicinato con UFO Anzi, una vera e propria flotta di luci Una delle astronavi si staccò dallo stormo E atterrò sul lato sud del giardino Il portellone si aprì dalla carlinga Esce fuori qualcosa È assolutamente umano Riferirà a Capovilla Solo che ha una luce intorno che lo avvolge I due caddero in ginocchio Ma poi il Papa si alzò E andò verso quell'uomo Quell'essere assolutamente umano Avvolto da una luce tenue penetrante Parlarono per circa 20 minuti Ma non si poteva sentire nulla Di quello che dicevano Per ben 20 minuti Poi l'uomo voltò le spalle E se ne ritornò sull'astronave Che ripartì Roncalli guardò Capovilla E si mise a piangere Quando ritornò verso di lui Gli disse I figli di Dio sono dappertutto Anche se a volte abbiamo difficoltà A riconoscere i nostri stessi fratelli Sembra la relazione Di una scena di un romanzo di fantascienza Meglio ancora di un romanzo surrealista Ma a questo punto Tenendo conto della premessa Che ho fatto in precedenza La domanda da porsi è Il Papa ha parlato con un alieno O con un demone Ma se l'alieno è un demone Perché Roncalli gli parla? Non sappiamo se Papa Roncalli Ha parlato con un demone O con un alieno Tutto ancora oggi È avvolto nel mistero In rete circolano sempre più L'ipotesi che gli alieni E anche gli UFO In realtà altro non sono Che demoni Che ne hanno assunto le sembianze Per farsi gradualmente accettare Dagli esseri umani E in qualche caso adorare Cercando di preparare Il terreno al famigerato Nuovo ordine mondiale Controllato in realtà Da demoni Con sembianze umane O ibridi O servi del demonio Al cui capo ci sarà l'anticristo Facendo una piccola ricerca Su Google Alieni e demoni Vengono fuori tanti pareri Secondo me Alcuni abbastanza plausibili Sulla possibile natura demoniaca Dei cosiddetti alieni Plausibile Come qualunque altre ipotesi Visto che sono solo ipotesi Dato che nessuno di noi Li ha mai incontrati Quindi Se ammettiamo la loro esistenza Chi sono? Cosa vogliono? Beh Vi sono come già detto Vari ipotesi Come quella Che siano demoni Non solo gli alieni Ma in qualche modo Anche gli stessi veivoli Che spiegherebbero tante cose Ad esempio il fatto Che spesso gli UFO Sembrano cambiare forma e colore Spesso sono avvistati Sotto forma di sfere luminose E si dice anche Che gli demoni Possono assumere E far credere ciò Qualunque forma E spesso Agli UFO Si è ipotizzata Anche una natura vivente Biologica Ad esempio Gli ebani E questo Secondo questa teoria Spiegherebbe perché Sembrano che siano qui Da sempre Sin dall'età della pietra Con i primi petroglifi Che raffigurano Esseri strani E veivoli Anche nei quadri Del medioevo Fino ai nostri giorni Semplicemente perché Stanno qui sulla terra Con noi E in mezzo a noi Anche l'ipotesi Rettiliani Che si camuffano Da esseri umani Conciderebbe Se fossero demoni Anche il fatto Che si mostrano A casaccio E in forme diverse Grigi Rettiliani Nordici Eccetera Può avere uno scopo Poi abbiamo Un'altra ipotesi Inquietante Ed è Chi comanda Veramente nel mondo Che è davvero Appartenente A sette massoniche Deviate Ad esempio E gli illuminati E come si ipotizza Ai vertici Della massoneria Deviata E degli illuminati Ci sono Adoratori del diavolo Questi Spingerebbero Il mondo E l'umanità Verso la miseria E le guerre Per portare Gli esseri umani Nella disperazione E nella paura totale Per poi Poter presentare Un rimedio A tutti i mali La rivelazione Dei fratelli alieni Venuti Ad aiutarci A riunire Il mondo Sotto la loro Benevola Ala Realizzando In un colpo Il nuovo ordine mondiale Con gli esseri umani Strafelici Di entrarci E di adorare I fratelli cosmici E così Spalancare le braccia Al regno Dell'anticristo Concludendo È difficile È difficile dare un giudizio Personale Se gli alieni Sono demoni Forse Il mio pensiero È più rivolto Al fatto Che come Nella natura umana Esistono persone buone E persone cattive E la storia E la storia E la storia questo Ce lo insegna Anche gli alieni Possono Classificarsi In questo E quindi Ciò che viene Considerato Non umano Nel senso Di malvagio Può essere Considerato Demoniaco Voi Che ne pensate Io vi ringrazio Per l'attenzione Vi invito A scrivervi Al canale Vi invito A mettere I like Nei video E noi Ci risentiamo Alla prossima Alla prossima